Per numero 10 da Samuel Vinci nasce e cresce con il bianco azzurro addosso perché è prodotto della cantera della Real Sociedad. Dopo una breve parentesi la squadra si accorge subito del suo potenziale e del suo talento. Viene promossa in prima squadra con la quale esordisce nel 2003 l'8 settembre. Real Oviedo, Real Sociedad. In gioco la Coppa del Re. Finisce 1-2. È la prima di una lunghissima, lunghissima, lunghissima serie di partite. Perché il ragazzino inizia a giocare con un po' di continuità e nella medesima stagione quella del suo esordio tra i grandi mette a segno il suo primo gol e non in un match a caso. Quello contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu vinto per 4 reti a 1 in favore del club basco. Dopo qualche anno di conferme, piccoli infortuni e vicissitudini che portano alla clamorosa retrocessione della Real Sociedad, Prieto decide di rinnovare nonostante fossi scadenza col club basco e lo fa fino al 2013 facendo capire fermamente di voler tornare tra i grandi proprio con questa squadra, con questa società, con questi colori. Il numero 10 si rivela allora uomo chiave, imprescindibile ed insaziabile, nella stagione che promuove di nuovo in massima serie la Real Sociedad. Il 6 gennaio il Real torna avere un ruolo porta fortuna ed importante negli scontri diretti della sua carriera. Perché quel ragazzino ormai cresciuto e diventato grande realizza una tripletta al Bernabeu, nonostante i Blancos si imporranno per 4 a 3. E adesso non parliamo più di un semplice giocatore, a noi piace tanto la sua spiccata voglia di essere un'autentica bandiera, una di quelle che probabilmente tra qualche anno ci farà avere tanta, troppa, nostalgia dei tempi andati. Oltre ai numeri relativi alle presenze, è importante segnalare che a 34 anni oggi Xabi Prieto è ancora un perno fondamentale in quella che è la sua squadra da sempre e che dall'anno prossimo purtroppo dovrà guardare con i propri occhi dall'alto, cercando di far crescere questa società con un ruolo da protagonista anche da dirigente. Resta ora il tempo per goderci gli ultimi mesi di un giocatore spesso lasciato nel dimenticatoio ma che non si è mai scomposto, nemmeno in momenti e situazioni critiche e da non sottovalutare, classico comportamento ad esempio di una vera e propria bandiera, l'ennesima da andar via. Xabi Prieto, l'ennesima a mancarci tanto. Ciao Xabi. Grazie a tutti.